E' stata inaugurata al Museo Civico d'Arte di Palazzo Ricchieri, in corso Vittorio Emanuele a Pordenone, la mostra Luigi Molinis attraverso il nero, con un'esposizione costituita da una trentina di disegni a china, presentati e commentati dal critico d'arte Giancarlo Paoletto. All'inaugurazione ha partecipato un numeroso pubblico e per l'amministrazione comunale è intervenuto l'assessore alla cultura Claudio Cattarruzza. Una mostra che pur nel titolo non è molto benaugurante, però interpreta la contemporaneità, cioè un periodo abbastanza buio, abbastanza cupo, questo senza ricorrere al pessimismo, ma tenendo conto che come diceva il grande regista Wim Wenders, il mondo è a colori, però il bianco e nero è più realistico sostanzialmente. Quindi questo è il messaggio che ci deriva. Luigi Molinis non ha bisogno, credo, di presentazioni, un grande artista, oltre che un grande designer, per cui fa parte integrante della storia non solo della nostra città, ma del design contemporaneo. E a lui auguriamo ogni fortuna e ogni bene con questa mostra che sicuramente sarà un successo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti